Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una puntata di Spirsi with me, Cristiano Ciorvi, perché durante tutta questa settimana di Sanremo ci siamo persi anche un po' di scoop e soprattutto grazie a questa nuova settimana di Sanremo dobbiamo parlare di qualche gossip spicciolo e ovviamente io vi avevo detto guardate, indagherò, indagherò, non vi preoccupate adesso siamo arrivati alla resa dei conti, innanzitutto andate a prendere la vostra bevanda preferita, mettetevi calmeri, lasciate like a questo video, iscrivetevi al mio canale, please perché stiamo andando forte ragazzi, come dice Gianni Morandi, sorso iniziale e direi di non perdere altro tempo e iniziare dal gossip più gossiposo di queste ultime ore infatti sembrerebbe che dopo Sanremo 2023 ci sia crisi nella casa dei Ferragniets non è passato e non osservato durante la finale il battibecco tra i due, tra Chiara Ferragni e tra Fedez ne abbiamo parlato negli ultimi video dedicati a Sanremo vi ho fatto vedere in anteprima il video dietro le quinte, tra virgolette, che gira su internet in cui si vedrebbe loro due durante una pubblicità battibeccare subito dopo il bacio con la lingua che c'è stato durante la performance di Rosa Chemical in cui ha preso Fedez, l'ha portato sul palco, l'ha anche slinguazzato bene bene subito dopo questa performance, questa esibizione diciamo che a tutti noi non è a tutti noi non è passato e non osservato l'atteggiamento sia di Fedez sia di Chiara perché Chiara ha mandato un po' di frecciatine da ragazza giuelosa quale è e mentre Fedez a un certo punto è scomparso dalla platea poi lo abbiamo fotografato mentre era al telefono non si sa con chi insomma ha cambiato totalmente atteggiamento e anche sguardo ma ragazzi ragazzi ovviamente poi Sanremo è finito e ovviamente tutti noi eravamo lì sulle storie sia di Fedez che di Chiara per saperne di più, per aspettare ulteriori dettagli, ulteriori gossip, ulteriori cose cose che non sono pervenute in quanto dopo la finale nei giorni successivi Chiara Ferragni ha pubblicato tantissime stories tipo che lei è tornata a casa, lei con i bambini lei che ha ringraziato praticamente tutti ma non il marito lei che incontra tutti gli amici che le danno il bentornato che le fanno complimenti e tutto quanto ma in queste Instagram stories manca il marito tutti si sono chiesti quindi a questo punto ma che fine ha fatto Fedez anche perché nelle ore successive alla finale cioè per tutta la domenica lui è sparito da Instagram è sparito dai social fino a quando non ha pubblicato un post in cui appunto c'era anche Marco Mengoni e ringraziava tutti foto con la maggior parte dei suoi amici artisti che hanno partecipato quest'anno a Sanremo ma mancava la moglie non c'era il post sulla moglie che anche lei è stata una delle protagoniste di questo Sanremo il post per lei arriva nella storia successiva in cui c'è scritto sono fiero di te, ti amo questa però è l'unica storia che è dedicata alla moglie l'unica storia che diciamo non è che li vede insieme ma che ci fanno capire un po' di robe se questa storia è stata messa per far azzittire un attimo il gossip perché tutti hanno iniziato a pensare ad una specie di crisi in casa Ferragnez in realtà ha scatenato il putiferio ancora di più perché Chiara non l'ha ripostata Chiara continua tutt'ora che sto registrando ma sicuramente in quest'ora e da quando editerò il video o quando lo pubblicherò succederà qualcosa altro e quindi ne riparleremo fatto sta che un se cagano nel senso Fedez è stato visto in una festa dopo Sanremo senza la moglie è stato visto anche abbastanza pensieroso e si fanno sempre più insistenti di spettegulesse e le voci che li vorrebbero litigati e quindi c'è aria di crisis ora nell'uno nell'altro ha proferito parola su questa cosa fatto sta che però io ho indagato un po' e contrariamente a quanto si diceva inizialmente e cioè che avrebbero litigato per via del bacio e quindi Chiara gelosa di questo mega limone dato proprio davanti a lei in diretta televisiva in realtà questo non centrerebbe niente con la litigata che avrebbero fatto uso il condizionale perché in realtà nessuno sa quello che è successo a parte loro fino a quando loro due non parlano noi possiamo solo fare supposizioni la verità la reale causa del loro raffreddamento di rapporto in questi giorni non starebbe quindi nel bacio e quindi nella gelosia di Chiara ma starebbe piuttosto nel fatto che questa era la settimana di Chiara ragazzi perché per la prima volta in assoluto partecipava ad un programma televisivo e non come ospite ma come co-conduttrice il programma televisivo in questione è il programma più importante del panorama italiano è il programma visto da più telespettatori in tutta Italia e anche nel mondo e quindi era veramente una prova super super importante era diciamo un punto di svolta nella carriera di Chiara quindi tutti i riflettori erano rivolti verso di lei quindi io mi immagino l'ansia che aveva lei perché arrivando dai social e soprattutto da Instagram spiattellata così in prima serata Rai 1 Sanremo 16 milioni di telespettatori diciamo che non è una passeggiata fatto sta che questa settimana come vi ho già detto doveva essere incentrata tutta su Chiara e si dice che i due coniugi avevano anche parlato dicendo guarda Fedez si sa come sei Federico scusa cerca un attimo di stare nel tuo perché questa settimana diciamo che è mia ok non ci deve essere la coppia perché ultimamente possiamo dire quello che ci pare ma ultimamente abbiamo parlato di loro due come coppia come tutto quello che facevano loro due per una volta c'è un progetto in cui c'è solo uno dei due c'è solo Chiara è una cosa anche importante si dice che lei si sia arrabbiata perché Fedez gli ha rubato mi va denuncio non si può non si può dire così si lamenta lei hai finito? non lo so continua stavo dicendo scusate insomma Fedez gli avrebbe rubato la scena invece di stare in un angolino lì nascosto per non farsi vedere secondo molti ha fatto di tutti per essere al centro dell'attenzione ok e questo non sarebbe andato a genio per Chiara e quindi non sarebbe alla fin fine il bacio in sé anche perché molti dicono vabbè ma Fedez gli ha rubato la scena ma non è colpa sua perché è Rosa Chemical che lo ha preso e lo ha trascinato sul palco quindi lui era lì seduto in prima fila a godersi lo spettacolo non è che c'entra qualcosa e no ragazzi invece no perché adesso vi faccio vedere un video in cui a Muschio Selvaggio il podcast di Fedez ospite Rosa Chemical i due parlano e diciamo che si mettono d'accordo su quello che sarebbe stato poi il fattaccio ok non è che dicono dobbiamo fare questo questo e questo così parlano di noi però vi lascio al video ci possiamo dare un bacino tirati fuori i piedi se dici tutto qua scusa quindi ragazzi ora non dico che è stato premeditato il tutto però ne avete già parlato quell'altro che ti dice eh vabbè ma non sveliamo tutto ora è vero incredulo è vero impreparato però già te lo potevi aspettare già lo sapevi al massimo se è vero che avevano parlato e Chiara aveva detto guarda è la mia settimana è un mio evento è una cosa super importante per favore tieniti da parte perché ne vade anche la mia immagine lui poteva dire a Muschio Selvaggio no non t'azzardà fa nulla perché non voglio rientrarci invece mi sembrava che in tutte queste serate ci fosse sempre Fedez nel mezzo e con la cover nei duetti con gli articolo 31 che urlano Giorgia legalizzala e quindi parliamo di lui e quando ha fatto il concerto ora non mi ricordo dove nella nella nave o nel palco così che fa quel monologo non concordato con la Rai e quindi polemiche il giorno dopo hanno parlato solo di lui e con questo bacio la finale invece di parlare di Chiara per come è stata hanno riparlato o chi è adesso scusate raga ma oggi non si può far video insomma fatto sta in poche parole ragazzi questa lite ci sarebbe stata ma appunto riguarderebbe il fatto che Fedez abbia rubato il posto la scena a Chiara Ferragni ora questa roba è vera questa roba è falsa non lo sapremo mai probabilmente oppure io so che stanno registrando la seconda stagione di De Ferragniets e quindi le telecamere di De Ferragniets che è la loro serie c'erano anche durante Sanremo e quindi che loro non dicano nulla perché magari può essere una piccola bombetta da sganciare con l'uscita della seconda stagione probabilmente sarà così o probabilmente lo scopriremo tra poche ore quando loro uno dei due inizierà a parlare fatto sta ragazzi ragazzi fatemi sapere voi se sapete qualcosa o se avete fatto delle vostre teorie complottistiche riguardante questa benedetta lite ma cambiamo argomento rimaniamo sempre in tema Sanremo per altri due gossip perché come ben sapete durante tutta questa settimana uno dei giovani che si chiama Holly ha rubato il mio cuore ma in tantissimi mi avete detto cristiano ma non puoi sostenerlo perché è omofobo io lì all'inizio ho detto ma come fate a saperelo e poi ho scoperto il perché praticamente è uscito in tutto twitter un video di lui di una sua vecchia canzone in cui dice questo ora non so quanto io debba bippare perché sapete che youtube è molto severo riguardante queste parole usate ma in poche parole lui in questa canzone datata 2019 non è che parli molto bene delle persone omosessualose quindi ai miei occhi io ho detto boh com'è possibile probabilmente può darsi che sia vero smettiamola di parlare di lui smettiamola di sostenerlo diciamo che Holly's over party la sua scalata al successo è durata tre giorni praticamente ora però io prima di urlare omofobia ai 420 voglio dargli diciamo come posso dire la redenzione perché lui quant'anni ha? 20? 21? 22? nel 2019 erano tre anni quattro anni fa quindi era un po' più giovane diciamo che episodi del genere sono già successi a Fabri Fibra sono successi anche a Fedez stesso e poi crescendo comunque o hanno cambiato idea o comunque hanno imparato che contro la lobby gay non ci si mette quindi io voglio ben pensare che in questi anni lui sia anche cresciuto prima era un ragazzino che nelle canzoni rap ogni tanto cioè non è che serve però lo scrivono in tanti diversi contro le persone LGBT ma per far parlare di sé per rendersi più duri nella scena street quindi io voglio ben sperare che non sia così fatto sta che qui a Milano abbiamo amici in comune e già questo mi fa pensare ad alcune cose ma non vi preoccupate io vi ho promesso che indagherò su questa situazione appena incontrerò queste persone chiederò e vi farò sapere ovviamente la verità e finiamo parlando di Sanremo con l'ultimo gossip vi ricordate che durante una reaction di una serata di Sanremo in diretta abbiamo parlato di questo bicchiere gate che sarebbe una lite nel backstage tra l'artista AO e un artista che inizia con la M che tutti davano per scontato fosse Madame e chiamato bicchiere gate perché sembrerebbe che si siano lanciati bicchiere d'acqua addosso prima avevano tutti gli entourage tacciato questa notizia come notizia fake notizia non vera volta solo per prendere di mira l'artista AO fatto sta ragazzi e ragazzi che abbiamo sbagliato artista perché colui che è un maschio che avrebbe discusso con l'artista AO non sarebbe Madame che è una ragazza perché Madame scrive questo tweet e ve lo leggo comunque con Anna non è successo niente non ci siamo neanche mai viste erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine mi spiace rompere il sogno del gossip mi stavo divertendo anch'io Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica allorché una volta che Madame se ne è tirata fuori arriva in nostro soccorso la domenica pomeriggio perché io vi ricordo che dopo Sanremo Sanremo finisce il sabato la domenica zia Mara Venier fa lo speciale Domenica in Sanremo Edition in cui incontra tutti i cantanti che hanno partecipato al Sanremo di quest'anno no? e quando è entrato il vincitore di quest'anno Marco Mengoni a un certo punto sapete che prima cantano e poi c'è uno scambio di battute con i giornalisti che sono lì presenti uno di questi giornalisti gli dice questa frase e ascoltate sei stato così gentile con tutti e dai fagliela una chiamata ad Anna Oxa seguito da un breve imbarazzo generale questa frase è passata inosservata ai più ma non a me ragazzi perché io avendovi parlato di questo bicchiere gate ho fatto due più due ho subito pensato eh qui gatta cicova c'è qualcosa che non torna perché dire questa cosa perché dire fagliela una telefonata ad Anna Oxa sapendo tutto il gossip che c'è stato in questi giorni quindi io ho pensato la lite c'è stata sì ma hanno detto che era fake perché non si trattava di madame ma in realtà era Marco Mengoni che anche il suo nome inizia con la M teorie del complotto spostatevi perché qui è una cosa assurda fatto sta che Marco non ha risposto ovviamente e non lo sapremo mai cosa è successo in realtà dietro le quinte e anche nello speciale Sanremo backstage non si vede questa cosa quindi se la sono tenuti per sé evidentemente qualcuno ha chiamato gli avvocati per non far divulgare le cose e ragazzi ragazzi finiamo con Sanremo basta non ne parliamo più fino a quando non ci sarà l'Eurovision a maggio penso o comunque fino al prossimo anno vi ho già scassato tantissimo con questa edizione Sanremo ma è stata bellissima e questi gossip io ve li dovevo dire ma parliamo di tutt'altro perché mentre l'Italia intera era ferma per questa Kermess dall'altra parte dell'oceano negli Stati Uniti l'altra sera si è tenuto il Super Bowl e l'Alftime spettacolo lo spettacolo di mezzo insomma quest'anno è stato cantato da Rihanna Rihanna che torna a cantare dopo anni 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 Rihanna che in questo spettacolo lancia la bomba perché fa vedere di essere incinta del secondo figlio ora io ero scioccato quando ho visto perché ho detto ma cavolo ma l'ha avuto il primo qualche mese fa datti un attimo di pace di tregua dai un attimo di tregua alla tua Rihanna come diavolo fai si ha partorito l'anno scorso a gennaio febbraio su per giù nemmeno un anno e già sei incinta corpancione quindi è già da un po' di mesi che lo sei non lo so vabbè comunque congratulazioni vi devo dire che questo spettacolo del Super Bowl di Rihanna è stato il secondo più visto della storia secondo solo a Katy Perry che secondo me a mio modesto parere quello di Katy Perry è stato uno dei più belli tra l'altro e vi posso dire la mia un popular opinion non mi è piaciuto per niente innanzitutto le mie vertigini quando hanno visto il suo spettacolo hanno detto no ma proprio urlato no non lo fare perché lei aveva queste piattaforme che si alzavano si abbassavano ma come cavolo fai assolutissimamente no poi ci sta che sei incinta e quindi non è che puoi fare coreografie tanto movimentate no e tanto articolate però non mi è piaciuto come spettacolo è vero ha ricreato quasi tutte le sue hit più iconiche è vero che è stato un ritorno veramente che era super aspettato super atteso perché saranno dieci anni che un canta più questa crista ma secondo me era in playback o comunque in pre-rec cosa che va molto di moda Beyonce e Doshet e per uno spettacolo così solo se ti chiami Britney Spears puoi cantare in playback ma nemmeno diciamo che poteva fare di più ho approvato il fatto che non ci siano stati ospiti rispetto a tutti gli altri spettacoli del Super Bowl però boh per un attimo ho sperato in una partecipazione così di Britney in S&M Remix però non l'hanno fatta e quindi ovviamente Britney sta lottando con i suoi problemi e non poteva essere lì non lo so a me non mi è piaciuto e mi sa che sarà una specie di addio questa perché un canta più si vede che non ha voglia nel senso boh non lo so contento però che non abbia cantato la canzone di Black Panther quello sì super contento fatemi sapere voi se la pensate diversamente qua sotto tramite commento ovviamente senza offendere perché se no vi blocco adesso ragazzi prima di salutarci torniamo un attimino in Italia perché durante la puntata di lunedì del grande fratello VIP c'è stato un altro scoop che è arrivato direttamente da Giulia Salemi Giulia Salemi come ben sapete sta da anni da quando ha partecipato la sua seconda volta al GF VIP si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli 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 ok io lo scambio sempre con Pretelli o Petrelli quindi dovrebbe essere Pretelli Pierpaolo che io ho conosciuto durante la live che abbiamo fatto con Disney super simpatico super alla mano super buono tra le altre cose non me lo aspettavo così ora la loro storia sarebbe non al capolinea ma in crisi in quanto è stata appunto la stessa Giulia a aprire la puntata del grande fratello con questa notizia voglio essere sincera Alfonso stiamo vivendo in questo momento un momento di crisi io pensavo che veramente non fosse vera ora è proprio vero che noi al di fuori dei social non sappiamo proprio nulla della vera vita delle persone no perché io l'ho sempre visti felici l'ho sempre visti benissimo insieme anzi addirittura so che hanno comprato casa per andare a vivere insieme e quindi è anche vero che lei ha parlato di un periodo di crisi e non di rottura quindi io spero che mettano un po' le cose in chiaro che continuino a stare insieme perché da quello che ho visto io dai social almeno secondo me erano non una coppia perfetta però stavano bene insieme erano belli li vedevo proprio bene e quindi incrociamo le dita per voi Giulia e per Paolo noi ti fiamo per voi mi raccomando no oggi un ciaffo oggi non mi fanno fare i video è impossibile mi raccom stiamo scherzando ragazzi ma perché io devo dormire la mattina non devo lavorare basta stavo dicendo incrociamo le dita per voi perché vi amiamo in caso contrario sia Giulia che Paolo se mi volete fare una chiamata magari volete piangere sulla mia spalla posso diventare bisex per voi perché mi piacete entrambi sto scherzando ovviamente non si scherza su queste cose quando ci sono delle persone che soffrono Cristiano ricordati che non sei simpatico quindi ragazzi ragazzi io direi che per oggi è tutto è meglio finirla perché tra un coso un trapano e un citofono qui è meglio finirla o sì i gossip di questa settimana sono questi ovviamente se ci saranno dei risvolti sia in positivo che in negativo saremo sempre qui a parlarne nei prossimi video fatemi sapere voi adesso a questo punto qua sotto tramite commento quello che pensate di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi mettetevi piace a questo video se vi ha fatto compagnia iscrivetevi al mio canale mi raccomando andatevi a vedere anche i video vecchi noi ci vediamo domani con un altro ennesimo video ciao ciao